Signor Presidente, signori Ministri, la Puglia è la prima produttrice italiana di energie da fonti rinnovabili e abbiamo dato la piena disponibilità al Governo di varare ulteriori impianti anche offshore per aumentare questa capacità produttiva e questa è un'opportunità. Abbiamo altresì alcune minacce che derivano dalla necessità della trasformazione tecnologica della più grande acciaieria d'Europa probabilmente e quindi abbiamo candidato Taranto ad essere il polo, se possibile, nazionale per la sperimentazione delle tecnologie che consentiranno di utilizzare l'idrogeno anche nella fase industriale dell'acciaio. È un progetto molto ambizioso, molto complesso, quindi noi consideriamo la disponibilità del Governo a sostenere il progetto della Regione Puglia come strategico non per la Puglia, Presidente, ma per l'Italia e quindi come al solito la Puglia risponde al Paese con piena disponibilità e volontà di collaborazione.